Per ognuno è diverso. Che cos'è l'Ade? Commento. L'Ade è un termine che gli antichi usavano per indicare il regno dei morti. Alla luce dell'insegnamento successivo, l'Ade è uno stato di coscienza. Come tale, l'Ade non è uguale per tutti, ma per ognuno è diverso. A seconda del suo grado evolutivo, la permanenza in questo stato di coscienza può durare mesi, anni e anche secoli del tempo fisico. Già nell'Ade la personalità dell'essere è attutita e purificata, ma rimane nel regno della mente, che regna ancora sovrana nel vaglio che l'essere fa della sua vita passata. Grazie. 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 Grazie.